buongiorno vediamo oggi cosa ci dice l'oroscopo a riete la strada non potrà mai essere pianeggiante ma di sicuro sempre in leggera salita ma non metteteci pure del vostro aumentando le difficoltà toro è il momento ideale per approfondire delle amicizie che ti stanno particolarmente a cuore ricorda che dall'amicizia spesso nascono i sentimenti gemelli urano vi darà ottime opportunità di incontrare le persone giuste e ottenere finanziamenti prestiti e mutui che vi occorrono cancro non piangetevi sempre addosso cercate di darvi le occasioni giuste prodigandovi di più e meglio leone qualcuno dal vostro passato potrebbe o cercarvi o inviarvi un messaggio preannunciando il suo desiderio di parlarvi non prendete per vero tutto quello che avrà da dirvi vergine inaspettatamente una persona potrebbe contattarvi e chiedere di rivedervi e per riparlare su una situazione pensateci bene prima di aderire a qualunque invito bilancia solo chi avrà il coraggio di osare e fare per primo il passo giusto oggi vedrà realizzato il suo sogno scorpione non vi ostinate a cercare qualcuno in questo periodo rovinereste solo ulteriormente la vostra situazione sagittario oggi vi sentirete come confusi e disorientati colpa delle notizie che arrivano da media capricorno amici simpatici vi regaleranno delle serate molto belle e serene molto bene lo studio e il lavoro acquario oggi cercate di dare un deciso calcio alla pigrizia e rimboccatevi le maniche se avete in sospeso qualche questione è giunto il momento di lavorarci su pesci portate pazienza perché una situazione complicata presto si rivelerà molto più semplice da gestire di quello che pensavate questo è tutto a domani con il prossimo appuntamento dell'oroscopo